Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, notizia arrivata da pochissimo, è stata catturata l'orsa JJ4 che ha ucciso giorni fa il runner Andrea Papi, rallentata dalla neve e da due cuccioli, al seguito scrive la Repubblica sulla prima pagina del giornale online, è entrata in una gabbia l'orsa con due cuccioli ed è stata poi addormentata, è stata portata poi in un centro faunistico insieme ai due cuccioli, adesso si dovrà aspettare un pronunciamento del Tarra sull'abbattimento o meno dell'orsa che finora è stato bloccato. Andiamo alla cronaca qui in Veneto e ci colleghiamo subito in diretta con Daniela Sizia perché un anziano è passato sotto le sbarre di un passaggio a livello nel Trevigiano ed è stato investito dal treno ed è in gravi condizioni. Sentiamo Daniela Sizia. Buongiorno, buongiorno ai telespettatori, dunque qua purtroppo l'ennesimo incidente stradale è avvenuto questa mattina, noi siamo qui ma l'incidente è avvenuto lì alle sbarre, uno scooter guidato da un 68enne di Treviso, probabilmente è passato quando le sbarre si stavano ancora abbassando, ha colpito la seconda sbarra, poi è caduto, ma lo guardate, 150 metri, lo scooter è arrivato fino a qui, ha sbattuto contro quei bidoni lì e poi ha terminato la corsa qua. Sono in compagnia del comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo, comandante, lo avete rilevato voi, purtroppo l'ennesimo incidente stradale e fra l'altro non è la prima volta che insomma automobilisti ma anche ciclisti o scooteristi passano proprio con le sbarre che si stanno abbassando. Sì, fortunatamente non stiamo parlando di un incidente mortale ma vista anche l'età del signore che è stato coinvolto in questo incidente, che ha creato da solo questo incidente, oggi potevamo parlare purtroppo di un ennesimo incidente mortale. È una pratica che gli agenti mi riferiscono a essere molto frequente di persone che malgrado vedano le sbarre che si stiano abbassando continuano a passare in violazione ovviamente di quello che è il codice della strada. Sappiamo che è un comportamento sanzionabile dal codice della strada con una sanzione di 167 euro. Sanzionabile e pericoloso perché, comandante, abbiamo visto 150 metri, poteva anche incontrare una macchina che veniva nel senso giusto di marcia e rischiando di impattare contro l'auto. Per l'appunto era quello che dicevo, nel senso che le cause sono ancora in vaglio, al vaglio della pattuglia che è intervenuta, però le conseguenze potevano essere sicuramente molto molto più gravi. Purtroppo si c'è una sequela continua di incidenti stradali, anche domenica scorsa di pomeriggio nel giro di un'ora si sono verificati ben quattro incidenti nel giro di veramente pochissimo tempo e due di questi incidenti per motivi dettati sicuramente causati dalla distrazione con fuoriuscite autonome. Questo significa che i conducenti stavano facendo tutt'altro che condurre in modo consapevole e serio il proprio veicolo. Quindi, ancora una volta, ribadiamo l'importanza di mettersi alla guida in condizioni psicofisiche normali e soprattutto concentrarsi nella guida. Ecco, comandante, purtroppo tante le iniziative che si fanno proprio per arginare questo fenomeno degli incidenti stradali, noi sappiamo la marca essere insomma una delle province con più incidenti stradali gravi, anche mortali. Iniziative, cosa deve cambiare? Anche la cultura non si capisce, nel senso che più si parla ma più c'è la distrazione più si usa il cellulare o si si mette alla guida magari in stato non alterato, non uno stato insomma ottimale. Tant'è che proprio inizieremo, ed è una delle iniziative per rispondere anche alla sua domanda, alcune iniziative che faremo proprio, che abbiamo già iniziato, ma potenzieremo nelle prossime settimane, il controllo del tasso alcolico durante il giorno. Diamo per scontato che il tasso alcolico venga violato solamente nelle ore serali e notturne, invece non è vero perché molti incidenti avvengono anche perché i conducenti durante il giorno bevono e poi si mettono alla guida. Quindi potenzieremo ulteriormente i controlli anche da questo punto di vista. Soprattutto adesso che ci sono ancora dei ponti come quello del 25 aprile che è ormai prossimo? Sì, non solo legato ai ponti, ma diciamo che purtroppo è una pratica che avviene quotidianamente, per cui i controlli non devono essere solo rafforzati durante, ecco un'altra pattuglia della polizia locale che pattuglia il territorio, non solo durante le festività, ma devono essere controlli quotidiani, quindi non solo legati a determinate occasioni festive. Il 68enne è stato portato a Treviso in apprognosi riservata, è gravissima, comunque le sue condizioni sono davvero gravi. Speriamo insomma che si risolva comandante e da Treviso è tutto, la linea nuovamente allo studio. Grazie, grazie molto Daniele Sizia, il comandante Andrea Gallo. Andiamo a Venezia con questo titolo del gazzettino, si denudava con i ragazzi in canonica, un paro che è stato sospeso, rivelazione sciocchieri del Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ci collegheremo più tardi con Ilaria Marchiori in diretta da Venezia per avere tutti i dettagli. Intanto rimane in prognosi riservata, anche se in lieve miglioramento, il 14enne precipitato dal tetto del capannone ex foffano a Casale sul Sire, vediamo. Un volo da un'altezza di quasi 15 metri, il ragazzo che è precipitato da un capannone in disuso, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso, secondo i sanitari avrebbe registrato un lieve miglioramento. Intanto è stato aperto un fascicolo senza indagati e senza reato, un atto dovuto. I ragazzi erano saliti sul tetto per fare delle foto forse al tramonto, una bravata che è costata cara ad uno di loro. Il lucernario non ha retto ed il giovane è precipitato al suolo. Lo studente, al primo anno dell'ITIS a Fermi, aveva detto ai genitori che sarebbe andato alla sagra paesana. Forse alle giostre, i tre amici, ci sono anche andati, ma poi hanno pensato bene di salire sul tetto del capannone recintato con tanto di lucchetto. Aveva rubato una pistola a un carabiniere ed è esploso un colpo in strada. Un 32enne era finito in ospedale psichiatrico e adesso è stato nuovamente arrestato. È evaso dal reparto di psichiatria dove era ai domiciliari per aver sottratto una pistola ad un carabiniere intervenuto per sedare una lite e aveva sparato un colpo in aria. Un 32enne padovano, dopo essere riuscito a scappare dall'ospedale, è stato rintracciato e questa volta portato in carcere a due palazzi. L'uomo, lo scorso 26 marzo, era stato protagonista di una domenica ad alta tensione in via Goito, a Padova. In mezzo alla strada aveva iniziato a litigare furiosamente con la sua fidanzata, il tracciando il traffico e provocando anche un tamponamento. Sul posto erano intervenuti i carabinieri, allertati dagli automobilisti, ma durante la fuga e la collutazione il 32enne era riuscito a sottrarre la pistola al militare ad esplodere un colpo in direzione del fiume, per fortuna senza ferire nessuno. Alla fine i carabinieri hanno riuscito a mobilizzarlo con il taser. L'uomo, dopo essere evaso dal reparto di psichiatria, aveva fatto perdere le sue tracce ed è stato individuato e arrestato. Visti i suoi problemi di dipendenza da alcol e droga, questa volta verrà trasferito in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Ed è stato ricoverato nell'ospedale di Schiavonia l'anziano che ieri ad este, armato di ascia, si è rappresentato negli uffici dei servizi sociali. Non è il primo episodio di questo genere che riguarda quest'uomo. Vediamo. Qualche mese fa aveva aggredito la sorella e le aveva rotto una finestra di casa. Ieri invece all'appuntamento con l'assistente sociale si è presentato armato di ascia in forte stato di agitazione. Una situazione difficile e delicata, quella del 67enne che ieri mattina ad este ha creato il panico all'esterno della sede dei servizi sociali del comune dove è arrivato brandendo un'arma. L'uomo, conosciuto dagli operatori per problemi di dipendenza da alcol e utilizzo di farmaci per problemi di fragilità psicologica, voleva dei soldi. I dipendenti comunali hanno bloccato le porte e non lo hanno fatto entrare e così hanno evitato che la situazione degenerasse. I carabinieri arrivati sul posto sono riusciti a calmarlo, tanto che alla fine l'anziano è salito di sua spontanea volontà nell'ambulanza che lo ha portato in ospedale a Schiavonia per un ricovero in psichiatria. Testimone oculare di quei momenti concitati, il sindaco di est che stava arrivando in municipio. Non è un delinquente, non è un malfattore, si tratta di una persona che per questioni mediche vive con frequenza alcuni stati di alterazione molto forti. Questa mattina lo stato di alterazione era particolarmente grave, però più che un pericolo reale, un panico vero, è stata una situazione assolutamente ben gestita dalla nostra polizia locale e dall'arma dei carabinieri. Visti i precedenti e la situazione delicata dell'anziano, si dovrà presto decidere un percorso aiuto e sostegno del pensionato. Al momento è stato escluso il trattamento sanitario obbligatorio. Calci, pugni e sono spuntati anche due coltelli. È stata una zuffa tra avventori di un locale etnico di Campo San Piero e poteva finire in tragedia. Una rissa violentissima che sarebbe potuta finire in tragedia. È successo tutto in un kebab di Campo San Piero, dove si sono affrontati, armati di coltello, due cittadini del Pakistan. Per bloccarli sono dovuti intervenire i carabinieri del radiomobile di Cittadella, che hanno denunciato i due, un ventisettenne e un quarantenne domiciliati a Galliera Veneta per lesioni aggravate. Da una prima ricostruzione, la lite sarebbe partita da futili motivi tra i due. Poi, dalle parole, sono passati ai fatti, estraendo i coltelli e ferendosi a vicenda. Solo l'intervento dei militari dell'arma ha fermato i due. I carabinieri hanno scongiurato la tragedia, convincendo i litiganti a posare le armi. I due stranieri sono stati medicati dal personale del suo 118 e hanno rimediato una denuncia. Ha sottratto generi alimentari da un supermercato. È successo a Creazzo e dovrà rispondere di tentata rapina, di rapina impropria il pregiudicato che è stato arrestato ieri. Creazzo, un italiano di 28 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Valdagno dopo aver asportato da un supermercato generi alimentari per un valore commerciale di 213 euro. L'uomo, un pregiudicato già noto alle forze dell'ordine, nel tardo pomeriggio di ieri, dopo aver prelevato la merce dagli scaffali, ha tentato di fuggire dall'esercizio commerciale attraverso una porta d'emergenza, azionando la maniglia antipanico. Tuttavia, avendo fatto scattare l'allarme automatico, si è trovato di fronte le due guardie giurate che, stazionando fuori dal negozio, lo hanno subito bloccato. Inutili le reazioni e i colti inferti dal pregiudicato che è stato trattenuto fino all'arrivo dei militari che lo hanno portato in carcere a Vicenza. Il 28enne dovrà ora rispondere all'autorità giudiziaria per il reato di rapina impropria. Boom di ascolti, ieri sera a Focus, abbiamo parlato di migranti e di una situazione difficilissima per il governo che ha chiesto lo stato di emergenza e ha bloccato la protezione speciale per i migranti. Ovviamente noi siamo andati a sentire i cittadini, sentiamo cosa hanno detto a Padova. Il governo italiano vuole decidere di revocare lo stato di protezione dei migranti in arrivo, ma in tanti paesi europei c'è ancora. Secondo lei è giusto o no? È sbagliatissimo. Non è che io sono diversa da un migrante, anzi sono solo più fortunata. Non capisco tutto questo accanirsi contro gente che è molto più fortunata di noi. L'emergenza c'è, quella è sicura, soprattutto giù Pantelleria o altro, sicuramente l'hanno Sicilia, tutte le isole, isolette di fronte all'Africa, là l'emergenza sicuramente c'è. Io sono contrario a questo provvedimento, tranquillamente. C'è tanta gente ormai integrata qua e quindi lasciamoli lavorare in pace a questi benedetti immigrati. Penso che sarebbe corretto accettarli come fanno gli altri stati. Per me fanno bene, bisogna farli arrivare perché sennò dove vanno questi poveri? Quindi secondo lei andrebbe mantenuto lo stato di protezione? Sì, 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 senz'altro. Sono persone in primis, quindi rispettando la dignità di una persona a quantomeno avere un'accoglienza dignitosa. Detto questo, chiaramente è necessario uno sforzo politico che vada oltre i confini nazionali, che quindi coinvolga gli altri paesi dell'Unione Europea, in quanto l'Italia è membro dell'Unione Europea. Io non sono d'accordo. Quindi secondo lei è giusto mantenere lo stato di protezione come fanno tanti altri paesi europei? Esattamente, esattamente così. I sindaci però dicono che siamo in emergenza, non riusciamo ad accogliere. Devono organizzarsi, tutto lì, si tratta sempre di organizzare le cose. Allora il processo per il Corvo, le lettere minatorie che erano arrivate alla Curia veneziana, sono diversi anni che c'è un'inchiesta. Ieri è stato sentito al processo il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia. Ci colleghiamo per i dettagli con Ilaria Marchiori. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono state delle dichiarazioni shock quelle di ieri al processo da parte della Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Addirittura un parroco, ha detto, si denudava in canonica con i ragazzi. Ma andiamo un attimo indietro per riassumere un po' questa vicenda, perché diciamo che con la testimonianza del Patriarca si è un po' arrivati alle battute finali. La segnalazione arrivò tra giugno e luglio del 2019. Il parroco dei Carmini, in centro storico a Venezia, teneva incontri con ragazzi di 17 anni in cui tutti si spogliavano e rimanevano nudi, col parroco compreso. È stato proprio il Patriarca a rivelare quanto accadeva, conclusione di questa lunga deposizione appunto del processo del cosiddetto Corvo, che è iniziato nel 2019. A gennaio fu tappezzato al tempo, tappezzata la città, di volantini che denunciavano questi atti di pedofilia e altri comportamenti sconvenienti che venivano commessi, che sarebbero stati commessi dai parroci veneziani. E nel primo di questi manifesti, che ricordiamo era firmato fra punto Tino, era citato proprio il nome di quel parroco che si era insediato ai Carmini due anni prima, dunque nel 2017. Quando sei mesi dopo il volantino arrivò la dettagliata segnalazione, il parroco dei Carmini ammise subito gli addebiti. E il successivo processo, un po' i canonico, conclusosi nel 2020 con la sospensione, molti dei nostri telespettatori lo ricorderanno, nel 2020. Sospensione per cinque anni. Il prete aveva deciso anche di sottoporsi ad una terapia psicologica dopo aver scontato questa pena, potrà rientrare in servizio ma senza svolgere ruoli che comportino comunque contatti con i ragazzi. Qui da poco ci troviamo qui in un parco dove era presente il sindaco Brugnaro a cui abbiamo chiesto anche un commento su questa vicenda. Lui ha detto che preferiva non commentare, però ha espresso la sua solidarietà al Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che si è trovato investito da tutta questa vicenda, che si è trovato anche a dover gestire, a dover approfondire e per poi arrivare appunto a questo processo. Ovviamente si continueranno ad avere dettagli su questa vicenda. Ricordiamo che il Patriarca a suo tempo aveva anche incontrato alcuni dei familiari e proprio i genitori avevano voluto mantenere la segretezza assoluta proprio perché poi si potesse approfondire la cosa in sede legale e in sede giudiziale. Questi sono i contenuti principali delle dichiarazioni del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ieri, al processo per i volantini del Corvo. Io qui da mestre restituisco la linea allo studio. Grazie, molte grazie a Ilaria per questi particolari. Siamo in grado di farvi sentire proprio la viva voce di Monsignor Moraglia in un servizio del Corriere del Veneto. Vediamo cosa, una parte ovviamente, ascoltiamo una parte della sua deposizione. Tutti i preti dell'area lanciana che erano presenti, quindi quelli che ho nominato prima, che erano interessati al cambio. E ho detto finalmente dopo cinque anni che stiamo parlando di un cambiamento, abbiamo cercato di farlo entrare nel DNA del popolo di Dio che magari è legato a avere la parrocchia sul proprio parroco. Si è arrivato un momento del cambio. Il 19 novembre, scusi, dico che avevo già detto questo e eravamo tutti d'accordo. Tutti d'accordo, i preti. Quando ho fatto questo cambio, sono arrivato a dire che il nuovo parroco sarebbe stato Don Donadoni. finché io ho parlato di cambio di parroco, quindi Don Donadoni... E va bene, questo era Monsignor Moraglia, mentre deponeva durante il processo di cui vi ha parlato Ilaria Marchiori, in diretta da Mestre. Torniamo sulla vicenda di una giovane consigliere comunale di Susegana che è scampata a uno stupro mentre era in vacanza a Malta, ha denunciato l'aggressora e ora le autorità della Valletta lo stanno cercando. Non appena ho aperto la porta, questa persona qui mi ha buttata nel mio letto, salita sopra, ha iniziato a toccarmi, mi ha tappato, proprio ha preso la sua mano, mi ha tappato perché io ho chiaramente iniziato a urlare e niente, per fortuna la porta era aperta e sì, niente, il portiere di notte mi ha salvata. Sono istanti drammatici quelli vissuti da Lara Ali Shahin, 32enne insegnante a liceo Marconi di Conegliano e consigliera comunale a Susegana. Dall'aeroporto di Malta, poco prima di imbarcarsi per far rientro in Italia, racconta di essere scampata sabato notte a una violenza sessuale in albergo alla Valletta dove la sera del suo arrivo è stata seguita da un 35enne che insieme ad altri giovani aveva incontrato in un pub. Non c'è stato modo di dissuaderlo, spiega. Lì chiaramente io ero presa dal panico e ho avuto difficoltà anche a reagire, mi sono proprio resa conto che non ho saputo come difendermi, ecco, e sicuramente dovrò frequentare un corso di autodifesa, ecco, perché è stato veramente forte quello che si è successo. L'uomo è stato messo in fuga ma le telecamere di videosorveglianza di Pabe Albergo l'hanno ripreso. Lì per lì Lara ha esitato a sporgere denuncia per tutte le conseguenze a cui sarebbe andata incontro, poi ha deciso di procedere. Ho pensato un po', mi sono pensato al mio tempo, poi ho detto no, devo andare e ho denunciato la domenica. Questa esperienza qua sicuramente mi aiuterà anche a dar meno confidenza, ecco, e ad essere un po' più prevenuta sugli incontri della nostra vita, ecco. Più tardi dovremmo riuscire a collegarci con Zero Branco, dove c'è Daniela Sizia per avere un aggiornamento sull'accoltellamento della psicologa in un centro disabili da parte di un ragazzo autistico. Sentiamo comunque i particolari in questo servizio della nostra redazione di Treviso. Questo giovane uomo è scattato, stavo cercando di capire, ci ha detto adesso, a me mi ha chiesto di tagliare le patate piccole, probabilmente un primavera, un rumore forte e ha colpito la psicologa, coordinatrice, solo che nel farlo aveva un coltello in mano e quindi la ferita in maniera importante. Un fendente all'addome, la psicologa si è accasciata a terra ma è rimasta sempre cosciente e è accaduto nel centro Terra Libera Tutti che accoglie ragazzi fragili con disabilità psichiche. Tutto è accaduto in un attimo, poi l'allarme è lanciato dagli operatori e l'arrivo dell'elisoccorso dell'ambulanza e dei carabinieri. La donna è stata portata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo è rimasto nella struttura fino all'arrivo del padre. Nella sua storia clinica ha degli episodi di aggressività ma sempre molto ben verbalizzati. Significa che non ha un'escalation improvvisa ma un'escalation rituale. Il giovane è ospito in una struttura nel veneziano della stessa associazione ed era venuto a Zero Branco per seguire una delle attività organizzate dal centro. Da circa due anni, avendo acquisito delle buone capacità soprattutto in cucina, hanno spiegato, si iniziava scegliendo un menù, poi si andava con gli operatori a fare la spesa quindi si cucinava e si mangiava tutti insieme. Un'attività che ha sempre funzionato molto bene, che dà libertà. È chiaro che in qualunque processo educativo e anche ovviamente con persone con fragilità e disabilità dove c'è libertà c'è anche rischio. Noi cerchiamo di contenerlo, di guardarlo, di osservarlo, di conviverci e oggi non siamo riusciti. Ora si deve pensare al futuro e come affrontare questa situazione che ha scosso tutti. Nel pomeriggio gli operatori si sono riuniti. L'idea comunque di base è che questa settimana ovviamente le persone che possano rientrare in casa, che possono trovare comunque un contesto stabile, sereno, rientrino in casa. Ovviamente persone che vivono con noi, che non hanno famiglia o non c'è la possibilità che rientrino in casa per sbagliati motivi, dovranno necessariamente stare con noi e ci organizzeremo in maniera tale per vivere questo momento. A questo momento va vissuto. Non possiamo superarlo. Va vissuto, va capito, va elaborato. Sul posto i carabinieri hanno ascoltato operatori e hanno raccolto le testimonianze. Il sindaco di Zerobranco, Durighetto, è arrivato subito sul posto ieri e ha fatto presente l'importanza di questa struttura che da cinque anni ospita ragazzi fragili. Il primo cittadino ha voluto parlare con il presidente dell'associazione, con gli investigatori. Questa realtà ha spiegato e attiva da cinque anni nel territorio e porta avanti un progetto importante a sostegno dei giovani con difficoltà. C'è un'attenzione da parte degli operatori che è massima. Chiaro che quando si ha a che fare appunto con ragazzi fragili e con reazioni che non si possono calcolare prima può essere pericolosa qualsiasi cosa, può essere pericoloso anche solamente l'utilizzo di un bicchiere, di una sedia, lo spostamento di una sedia o qualsiasi altra cosa. Ogni progetto è valutato attentamente e mai era accaduto un fatto simile. Se all'interno del percorso di autonomia la psicologa, comunque la struttura aveva valutato che potesse esserci anche questo laboratorio che si trattava di un laboratorio di cucina, quindi un laboratorio anche abbastanza ordinario per loro. Evidentemente vuol dire che le condizioni c'erano. Poi purtroppo la sensibilità e la fragilità di qualche ragazzo in questo momento è esplosa in questo modo. L'obiettivo dell'associazione è quello di arrivare a dare la possibilità di una vita il più possibile autonoma a questi ragazzi. Dare loro la possibilità che possano avere una vita autonoma indipendentemente dalla famiglia dalla quale comunque tornano magari nei weekend o quando viene deciso dalla comunità. Però è un progetto molto importante in modo che queste persone possano essere, vivere la propria vita in autonomia. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente Luca Zaia. Rivolgo i più sinceri auguri di pronta guarigione alla psicologa rimasta ferita oggi a Zarobranco. Si tratta di professionisti che operano in un settore delicatissimo sia per le caratteristiche dei pazienti, al quali deve sempre andare il nostro rispetto, sia per i rischi che a volte gli operatori si trovano ad affrontare. Andiamo in diretta a Milano dove la premier Giorgia Meloni sta parlando al Salone del Mobile che è ovviamente stato aperto oggi. Vediamo. la lotta senza quartiere alla contraffazione e alla concorrenza sleale, quindi con tutela dei brevetti e dei marchi, strumenti finanziari per far crescere le piccole e medie imprese particolarmente nei settori dell'eccellenza e, e veniva citato, poc'anzi, formazione e competenza. Perché vedete io penso che in questa nazione serva una rivoluzione culturale per mettere al centro il lavoro creativo italiano. Noi abbiamo un disperato bisogno di rafforzare le competenze che mancano e allineare domanda e offerta di lavoro. Cioè non possiamo accettare che mentre noi continuiamo a capigliarci sul tema reddito di cittadinanza, poi le imprese dichiarino che in 4 casi su 10 hanno difficoltà a trovare manodopera qualificata per lavori che sono ottimamente retribuiti. Bisogna lavorare per riallineare quelle competenze e allora sì la sfida di un liceo del Made in Italy, cioè di una rivoluzione culturale che dica quanto è legata alla nostra identità anche ai settori che sono connessi al nostro marchio, che da alcuni è stata così insomma un po' guardata dall'alto in basso, è in realtà secondo me una delle soluzioni a questo problema. Come anche, ed è stato citato negli interventi che mi hanno preceduto, è il tema degli ITS che secondo noi devono evolversi e essere focalizzati sempre di più sulle tecnologie digitali. E poi serve favorire la trasmissione di saperi tra chi è prossimo all'età pensionabile e le nuove generazioni, che a quel sapere e a quella continuità possono aggiungere innovazione, perché in questo salone ci sono altre due grandi sfide che sono sfide del nostro tempo. C'è il tema dell'innovazione in rapporto alla tradizione e c'è il tema della sostenibilità. E questa è un'altra grande questione della quale parlo molto velocemente, perché vedete il tema della sostenibilità è un tema molto sentito dalla filiera legno arredo. Noi in Italia abbiamo un patrimonio boschivo che non è utilizzato se non in minima parte rispetto ovviamente alla sua crescita annua. I nostri produttori in diversi casi non riescono ad utilizzare questo patrimonio, perché ovviamente... E Giorgio Menoni in diretta alla Salone dei Mobile di Milano, ovviamente è un'occasione per parlare di economia, per parlare e far riferimento anche ai migranti e ai rapporti con l'Europa. Torniamo in Veneto, andiamo subito a Padova da Valentina Visentini, perché c'è un boom delle richieste per il bonus trasporti. A te Valentina. Buongiorno da Padova, siamo alla stazione davanti alla biglietteria di Bus Italia. Dopo la falsa partenza di ieri, sembra invece essere tutto regolare oggi per la richiesta del bonus trasporti. 60 euro messi a disposizione dal governo a sostegno di lavoratori, studenti e di chi usufruisce dei mezzi di trasporto pubblico. Ieri Bus Italia, era impossibile selezionare Bus Italia e quindi tante persone erano venute qui per richiedere il bonus, ma sono state rimandate a casa senza averlo ottenuto. Oggi invece la fila è molto più contenuta, e anche se fila via scorrevole, non solo qui ma anche in via Rismondo, nell'altra biglietteria. Proviamo a chiedere a qualcuno che è in fila come mai chiede il bonus trasporti. Questa ragazza sei in fila da un po'. Adesso in realtà qualche minuto in più, però cinque minuti non è troppo. Come mai oggi hai chiesto il bonus, vuoi chiedere il bonus trasporti? Perché vado all'università, quindi mi agevola con gli spostamenti in autobus e comunque anche il prezzo scende di un po'. Ieri qualche problema, oggi sta filando tutto liscio. Bene, grazie mille. La lasciamo che deve appunto tenere la coda per ottenere il bonus trasporti, dopo la falsa partenza di ieri con code molto lunghe che si erano registrate non solo qui in stazione ma anche in via Rismondo, dove c'è l'altra biglietteria di Bus Italia. Sembra filare via liscio tutto quanto, tutte le code. Il bonus trasporti può essere richiesto da studenti e lavoratori, da chi ha un ISEE che non supera i 20 mila euro e anche qui a Padova, città universitaria con tanti studenti, il bonus è molto richiesto come avete sentito. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie molte. Sono gravi, torniamo alla cronaca negra, sono gravi ma non tali da rappresentare un pericolo imminente di vita. Le condizioni di salute di Nicola Boschello, il 47enne di Feltre che è rimasto ferito in seguito all'esplosione di un appartamento saturo di gas. Si trova adesso ricoverato al centro grandi ustionati di Padova, in via Fusaro i residenti sono ancora sotto shock. È stata una notte lunga, vissuta e sofferta perché quello che mi ha colpito di più è stata la famiglia che stava sotto, che è stata praticamente i bambini che uscivano urlando in braccio a mamma e papà e la più grande mi ha consegnato il cagnolino perché il cagnolino ha spaurito. Loredana De Boni è stata fra le prime ad uscire di casa dopo la violenta deflagrazione che sabato notte ha devastato l'ultima porzione del residence Corte dei Fiori in via Fusaro a Feltre. La donna è ancora sotto shock. Adesso il minimo rumori salti, che mi hanno detto che è normale, ma non solo per me, anche tutti i miei avvicinati. Ho assistito il ragazzo che adesso è a Padova, nel senso vicino alla barella e lui continuava a ripetere la stessa cosa, ho acceso la sigaretta, esploso tutto. Nicola Boschello, 47 anni, non sarebbe in pericolo di vita, pur se sono gravi le sue condizioni di salute. L'uomo si trova ricoverato al centro grandi ustionati di Padova con ferite sul 20% del corpo, dorso, volto e arti superiori. Un miracolo per lui e un miracolo che la tragedia non abbia causato feriti specie fra i componenti della famiglia di sei persone che abitava al piano terra della palazzina. Ho visto il disastro qua fuori e ho visto un mio caro amico lì fuori che chiedeva aiuto. A casa mia fortunatamente non ha avuto particolari problemi a differenza delle persone qua di fianco. Ecco quello che resta della palazzina dove si è verificata l'esplosione sabato a luna di notte. Sono stati posti dei teloni a protezione dell'appartamento praticamente devastato, ma la devastazione la si può vedere anche sopra quest'auto parcheggiata. Vedete che ci sono ancora i resti dei vetri, delle finestre che sono esplose a causa dello scoppio provocato dal gas. Porte blindate, vetri e scuri divelti e proiettati un centinaio di metri oltre la porzione di casa che ospitava 12 appartamenti e altrettante famiglie. Subito nei confronti delle famiglie sfollate è scattata una gara di solidarietà in attesa di una sistemazione per tutti più duratura. Le persone che noi abbiamo visto quella notte erano persone che comunque avevano perso una casa, la loro casa, i loro affetti, specialmente i bambini più piccoli che non riescono bene a capire il motivo perché succedono queste cose e quindi anche i genitori comunque sono stati molto rassicuranti, li vedo comunque abbastanza tranquilli, ecco noi li coccoliamo e tutti hanno contribuito. Il lavoro che hanno fatto ieri mi sa che erano 30-40 persone compresi i volontari a sistemare perché così quello che si vede ora è un niente. Per quanto riguarda le indagini sono al lavoro i tecnici dell'antincendio dei vigili del fuoco, non si esclude anche la pista del gesto volontario. Stiamo facendo tutte le valutazioni e le effettueremo poi con il supporto del nucleo investigativo antincendi per accertare quali siano state le cause che hanno portato la saturazione dell'ambiente, quindi tutte le verifiche tecniche necessarie in questo caso, non escludendo alcuna ipotesi. Spetta ai vigili del fuoco stabilire con esattezza quali siano state le cause della deflagrazione che sabato notte ha devastato la palazzina in via Fusaro a Feltre. Nell'appartamento saturo di gas una scintilla, forse quella dell'accendino usato da Nicola Boschello per accendere una sigaretta, potrebbe essere stata la causa del devastante scoppio. L'ipotesi al vaglio della procura di Belluno che sull'evento tragico ha aperto un fascicolo non escludono né accidentalità né volontarietà. La palazzina è stata dichiarata inagibile e lo sarà per lungo tempo. C'è stata una compromissione sia delle parti non strutturali ma anche delle parti strutturali, quindi la struttura in cemento armato è stata sicuramente interessata, come pure i solai, la copertura, quindi il tetto, le pareti, gli infissi e quindi tutto ciò che riguarda la parte strutturale e non strutturale e anche impiantistica. L'onda di proiezione dello scoppio ha scaraventato gli infissi verso l'esterno, i danni sono ingenti, hanno interessato anche alcune auto parcheggiate di fronte a Residence. L'area è stata delimitata per consentire la raccolta dei detriti e agevolare il lavoro degli inquirenti. Si tratterà di indagini lunghe? Ma diciamo sono limitate all'appartamento e in particolare alla porzione di impianto del gas, quindi ritengo che saranno abbastanza limitate proprio perché abbiamo individuato con una certa precisione il punto in cui c'è stata la fuga di gas. La nostra inviata Tiziana Bolognani, vi dicevo della questione dei migranti con quanto ha deciso il Consiglio dei Ministri e tra le decisioni anche la nomina del commissario per lo stato di emergenza Valerio Valenti. Sentiamo cosa dice in Friuli Venezia Giulia, che è un territorio dove arrivano i migranti dalla rotta balcanica, il neoconfermato presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Ovviamente la persona è una persona di grande spessore, grande conoscenza dei territori e in particolare il modo del Friuli Venezia Giulia. Il governatore Fedriga commenta così la nomina dell'ex prefetto di Trieste Valerio Valenti a commissario delegato per lo stato d'emergenza per i migranti nelle regioni italiane interessate dal fenomeno. La nomina è prevista da un'ordinanza a firma del capo della protezione civile Fabrizio Curcio, secondo la quale il nuovo commissario costituirà una struttura di supporto composta da un massimo di 15 persone già in servizio presso il Ministero dell'Interno. Nelle intenzioni il provvedimento aiuterà ad affrontare l'emergenza che però, ha precisato Fedriga, necessita degli sforzi di tutto il Paese e anche dell'Europa. È chiaro che siamo di fronte a un'emergenza, i numeri sono preoccupanti dell'immigrazione regolare e serve una risposta corale del sistema Paese che guardi anche a nuovi strumenti non soltanto per l'accoglienza ma anche per il rimpatrio di chi è entrato illegalmente. Stiamo adesso affrontando un'emergenza, non affrontando in modo strutturale l'ingresso irregolare in Europa, non soltanto in Italia. E su questo la stessa Europa è fondamentale che sia protagonista coinvolgendo tutti i Paesi delle diverse rotte, da quella ovviamente mediterranea a quella alla rotta balcanica. E sulle polemiche scatenate dalla decisione del Governo di togliere la protezione speciale per gli immigrati, così il Presidente. La protezione speciale non esiste negli altri Paesi europei, non è una protezione di carattere internazionale come lo Stato strifugiato e la protezione sussidiaria. È stata utilizzata di fatto per dare permessi ad ampio spettro, molto superiore a chi realmente ne avesse diritto delle protezioni internazionali. Penso che serva la dovuta cautela, altrimenti rischiamo semplicemente di dare dei sistemi di protezione che non sono internazionali e di fatto legalizzano l'illegalità. Servizio di Laura Bucarella della nostra redazione triestina a Telequattro, ma ci colleghiamo adesso in diretta con Torniamo a Zero Branco, perché Daniela Sizia ci dà degli aggiornamenti sull'accoltellamento della psicologa. A te la linea, Daniela. Buongiorno, buongiorno direttore, buongiorno anche a telespettatori. Sì, siamo tornati a Zero Branco, ieri l'abbiamo raccontato, un 26enne autorevole, autistico, si è girato ed ha colpito la psicologa 32enne veneziana che è stata portata in ospedale, sembrava grave, fortunatamente non è in pericolo di vita, 40 giorni di prognosi. Sono in compagnia del sindaco, sindaco, intanto lei so che ha sentito la psicologa, come sta? Sì, ieri tramite un sms ci ha informato del fatto che sta comunque bene, compatibilmente con la situazione, ma sta bene, si è ripresa, era comunque un po' scossa dalla situazione, ma consapevole e anche tranquilla, questo sì, dobbiamo dirlo. Ecco, fra l'altro, direttore, c'è stata anche una riunione ieri pomeriggio di tutti gli operatori di questo centro per fare un po' il punto della situazione, per cercare delle soluzioni, per parlare di quello che è accaduto, perché come dicevamo, sindaco, purtroppo con persone così fragili, con questa patologia, insomma, il rischio comunque c'è. Assolutamente sì, non è un contesto che così potremmo definire ordinario, si tratta tra l'altro di un centro di eccellenza, perché si cerca di dare loro la massima autonomia possibile, sapendo che ci sono dei rischi, sapendo che il contesto non è certamente un contesto facile o semplice da gestire, però devo dire che sia dai volontari, dai soci dell'associazione e dai professionisti, perché ricordo che è sì un'associazione, ma gli operatori sono dei professionisti che hanno fatto un percorso scolastico, formativo e di esperienza, quindi stiamo parlando di lavoratori che hanno tutte le competenze del caso, ebbene, anche da loro emerge questa volontà di provare a ricostruire e di ripartire da questo fatto e da questa vicenda. Ecco, ora ci sarà una riunione per capire insomma che cosa, come organizzare la cosa e anche un po' per valutare quello che è accaduto, che cosa si aspetta lei sindaco? Sì, tra l'altro devo dire, aggiungo una cosa, ho sentito stamattina il direttore dei servizi sociali, il dottor Rigoli e la dottoressa Roma, sia ieri che stamattina, che la Presidente della conferenza dei sindaci, con i quali abbiamo concordato anche un incontro anche con loro qua a Zero Branco, presso la struttura, in parte per verificare effettivamente che tutto sia a posto, ma di questo io non ho nessun tipo di dubbio, ma anche per dare un appoggio, per dare anche un po' di fiducia a questi operatori che, come dicevo prima, stanno svolgendo un'operazione che è all'eccellenza e quindi ci sta a volte la criticità, da queste criticità bisogna poi trovare il modo però di rilanciare e di migliorare, se possibile, quello che già loro stavano facendo. Grazie davvero, grazie sindaco e direttore ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie Daniela, grazie al sindaco. Torniamo a Padova dove l'onorevole Alessandro Zanna sabato parteciperà alla manifestazione delle famiglie Arcobaleno e qui è la vicenda della registrazione dei nomi dei figli delle coppie omogenitoriali. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni. Sarò presente con orgoglio perché dobbiamo presidiare e dobbiamo continuare a manifestare perché stiamo parlando di diritti umani. L'onorevole del PD Alessandro Zanna annuncia che sarà presente sabato a Padova alla manifestazione delle famiglie Arcobaleno davanti a Palazzo Moroni per protestare contro la scelta della procura di acquisire le registrazioni degli atti di nascita dei figli delle coppie omogenitoriali. Zanna, appena nominato nella nuova segreteria a guida Schlein, esprime solidarietà al sindaco Sergio Giordani che ha espresso la volontà di continuare a registrare i bambini di due mamme. Se noi avremo un'impugnazione da parte dei Tribunale che non riconosce entrambi i genitori strapperemo una mamma o un papà a quei bambini ed è una cosa crudele e disumana. Ecco perché serve al più presto una legge in Parlamento che riconosca proprio i figli delle famiglie Arcobaleno, delle famiglie omogenitoriali. Non si tratta di parlare di maternità surrogata o di altro. Questo è un tema che viene usato per sviare dal focus del vero problema che è quello di riconoscere questi bambini e le loro famiglie. Serve subito una legge, dice Zan, che spiega le proposte del Partito Democratico. Noi abbiamo presentato una proposta di legge che tra l'altro hanno presentato altre forze politiche sull'urgenza di riconoscere i figli alla nascita perché altrimenti questi bambini subiranno uno stigma per tutta la loro vita oltre a subire delle discriminazioni rispetto a tutti gli altri bambini. È come quando non venivano riconosciuti i figli fuori dal matrimonio. È la stessa identica cosa. Dunque noi dobbiamo fare in modo che la legge, il governo, la maggioranza non si giri dall'altra parte e non continui a perpetuare questa crudeltà nei confronti di questi bambini. In regia oggi Francesco Cerone, il mitico Alberto Piovesan, il grande lavoro importante, il lavoro dei registi, dei nostri tecnici nei TG, nei programmi La Sera, Focus, Ring, su Antenna 3. Davvero quindi li ringraziamo e li citiamo sempre o quasi sempre. Andiamo in diretta a San Martino di Lupari dove c'è Sharon Di Carlo. qui stiamo parlando di disabili, crossabili anzi per la precisione, che stanno ripulendo un bosco pieno di rifiuti. A te la linea Sharon. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo qui a San Martino di Lupari, una giornata dedicata, come ha detto lei, all'ambiente, all'inclusione sociale, possibile grazie all'associazione Crossabili e Detra. Sono qui con Mattia Catapà. Buongiorno Mattia. Buongiorno a tutti voi. Che cosa è successo oggi? Avviciniamoci intanto. Cos'è successo oggi? Cosa avete fatto in così tanti? Oggi è stata una giornata estremamente semplice ma per me con un messaggio mediaticamente molto importante. Nel senso abbiamo coinvolto la cooperativa Frates, la cooperativa di Casa Amami e siamo partiti dalla palestra di Campreta. Abbiamo fatto due gruppi dove abbiamo, grazie a Detra, con le pinze, i guanti e dei sacchetti, abbiamo raccolto i rifiuti abbandonati nel nostro territorio. Per me è un'attività che si può fare veramente in qualunque parte d'Italia quando c'è la buona volontà. Quando ci sono tanti ragazzi che di un'estrema precisione oggi proprio mi sono stupito quando si dà un compito. Lo fanno veramente, veramente, veramente bene. Dove sono passati non si trova più un rifiuto. E tutto è per dimostrare che la disabilità potrebbe essere una ricchezza se viene valorizzata dando un compito ben preciso e si fa veramente qualcosa di buono perché ripulire l'ambiente visto tutti i temi sensibili che ci sono attualmente dall'ecosostenibilità a proprio l'abbandono di rifiuti e l'accolta differenziata. Quindi è un onore aver collaborato con Etra, aver collaborato con tanti ragazzi. Facciamo tantissime attività, promuoviamo l'inclusione, la condivisione, il divertimento, l'autonomia e lo sport. Io ci metto la faccia, sono il frontman ma siamo una grande famiglia e quindi anche oggi è stato meraviglioso anche se la parte più bella deve ancora arrivare perché sarà stile rock'n'roll croissant. Sgaserai dopo? Certo che sì, faremo la baggy terapia dopo aver mangiato, anzi è una sorpresa, svegliamo uno spoiler. No, non diciamo nulla, non diciamo nulla. Io mi avvicino alla signora Roberta che vedo qui con un sacco grandissimo pieno di rifiuti. Com'è andata questa raccolta? Diciamo bene, perché tutto sommato non era neanche così tanto sporco, vuol dire che i sanmartinari rispettano abbastanza la mia. Sono educati i civili? Sì, sono educati. Poi il resto l'hanno fatto questo gruppo meraviglioso di ragazzi. Mattia non serve nominarlo perché è un pilastro e grazie alla sua iniziativa è meravigliosa, meravigliosa giornata. Quali sono i rifiuti che avete trovato più in assoluto? Plastica? Quali? Sigarette? Cosa? Sì, ecco, loro si sono dedicati appunto ai mozziconi di sigaretta, cose che noi come gruppi ecologici di San Martino non abbiamo mai tempo di raccogliere perché abbiamo altro e loro invece si sono proprio dedicati con la pazienza veramente, ci hanno messo un impegno straordinario e con gran felicità proprio, è sempre una giornata veramente meravigliosa. Grazie signora Roberta, io mi avvicino adesso al direttore generale Etra, signor Lenzi, buongiorno. Buongiorno. Come mai questa sinergia? Perché è importante? Beh, è importante da due punti di vista. Innanzitutto l'educazione ambientale è sempre importante, soprattutto per una società come Etra che ha un'attenzione al territorio che sta nelle sue corde da sempre perché si occupa appunto di servizio idrico integrato e di raccolta dei rifiuti. Ma anche e soprattutto in questo caso per l'inclusione sociale che grazie a Mattia, come hai appena raccontato, ci permette comunque di coinvolgere anche ragazzi che spesso se no sarebbero rimasti chiusi fra quattro mura, come dice sempre lui. E quindi questo è un aspetto fondamentale per la nostra società. Altri progetti come questo quindi? Abbiamo intanto altre due giornate come questa che dovremmo fare sul territorio, che ricordo però che è anche tra una, tra le prime in Italia, quindi proprio come dice Mattia, vorremmo tanto che fossero anche esportate. Poi vediamo se riusciamo anche a organizzare altro, ma sicuramente altre due giornate le faremo. Grazie al direttore generale di Etra, da San Martino di Lupari è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Sharon Di Carlo, da San Martino di Lupari. Andiamo a Venezia, dove ieri il campo Sant'Angelo era gremito da tantissime persone a corse per chiedere che le risorse della legge speciale per Venezia, di cui ricorrono i 50 anni, siano destinate in parte ai cittadini. Il servizio di Filippo Foes. Da Mestre a Marghera, da Favaro a Lido, sono arrivati da tutto il comune a manifestare in campo Sant'Angelo perché la legge speciale per Venezia, promulgata esattamente 50 anni fa, si è rifinanziata e soprattutto i fondi siano spesi per risolvere i tanti problemi che ci sono in laguna, in terraferma. Ognuna di queste cose è scritta in una selva di cartelli, variopinti, con grande fantasia, ma dicono tutti la stessa cosa, le risorse in questa città ci sono e devono essere però impiegate secondo le priorità dei cittadini veneziani. La legge speciale per Venezia fu promulgata nel 1973 per la salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica della città. Se questi sono i risultati, dicono i diversi, evidentemente c'è bisogno di un suo aggiornamento. Tornare allo spirito originario di quella legge che coniugava la URBS, i muri, le fondamente, le rive, con la Civitas, con i cittadini che oggi hanno affollato questo campo e che sono la parte più importante della rinascita della città. Sotto l'organizzazione del neonato coordinamento 16 aprile sono state decine le associazioni che da ogni angolo del comune hanno aderito alla manifestazione. Fra le tante cose mancate della legge speciale e della salvaguardia socio-economica, che è la cosa più grave che è mancata in questi 50 anni, c'è quella delle attività e delle iniziative a favore della residenza e del lavoro a Venezia. L'arsenale è la dimostrazione di una straordinaria occasione mancata per la rivitalizzazione di Castello, dei mestieri e del lavoro compatibile sulla città che si poteva fare e che si deve fare in questa sede. È importantissimo ricordare come il parco di San Giuliano si è stato realizzato con i soldi della legge speciale. Oggi si sta tornando indietro, l'amministrazione Brugnaro è fortemente determinata a portare un centro intermodale di trasporto e un hub di trasporto passeggeri e merci. Ma in campo non ci sono solo le associazioni, ci sono tanti cittadini e cittadine di tutte le età. Vittorio ad esempio è stato tra i giovani volontari che si sono rimboccati le maniche per aiutare durante l'acqua granda del 19. Devo ammettere che a vedere questa manifestazione mi sia riempito il cuore di gioia e di speranza perché vedo una comunità veneziana unita e pronta ad affrontare questi problemi insieme. Grazie a tutti. In attesa della sentenza del TAR, sentiamo. Il nostro personale forestale, il nostro corpo forestale è riuscito a catturare JJ4. L'annuncio lo dà direttamente il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. L'orsa JJ4 che qualche giorno fa ha ucciso nei boschi del Trentino Andrea Papi è stata catturata assieme a due dei suoi piccoli. Nella cattura è già stato avvertito anche il governo, data la portata della notizia e della situazione. E il presidente della provincia fuga ogni dubbio. Il Trentino vuole abbattere l'orsa e aspetta solo l'ok del TAR. Vale per noi ancora l'auspicio che il TAR possa anticipare la propria decisione rispetto all'11 maggio perché per parte nostra procederemo, se il TAR concederà ovviamente questo rispetto all'ordinanza che avevo sottoscritto, procederemo all'abbattimento di JJ4. JJ4 ha dato altri segni di pericolosità e aggressività nei giorni scorsi che vengono resi notti solo ora dal governo provinciale. È un'orsa pericolosa che in questi giorni, e vi ringrazio per l'attenzione che molti di voi hanno avuto anche nel non diffondere notizie, ha dato segni di forte aggressività sulle fototrappole. L'orsa che ha ucciso Andrea Papi non è l'unico animale aggressivo in Trentino in questo momento. Puntare l'attenzione sugli altri due soggetti pericolosi, e cioè MJ5, per il quale c'è già un parere favorevole di Ispra all'abbattimento, e M62, per il quale chiederemo ad Ispra l'abbattimento. Risolta questa crisi, il Trentino vuole sfoltire il numero degli ossi presenti sul territorio, e a conti fatti potrebbero essere fra 20 e 30 quelli considerati in più. Dove finiranno è tutto da vedere. Ugualmente importante, se non una volta risolto i problemi dei tre esemplari diventa ancora più importante, è il tema del futuro del progetto, e quindi del fatto che i numeri devono tornare a quella che era la loro originalità, cioè quello che era l'origine del progetto, che voi ricordate prevedeva una cinquantina di esemplari che si sarebbero dispersi sull'arco alpino. Quindi su questo è la preoccupazione della giunta provinciale, di questo dobbiamo lavorare. E' un salvataggio eccezionale quello messo in opera dai carabinieri di Padova, questo fine settimana all'Arcella, vediamo di cosa si tratta. Era stato ferito probabilmente da un pallino di un fucile o un gheppio soccorso in zona Arcella dai carabinieri. Portato nella stazione di Padova centrale, il rapace è stato rifocillato in attesa di essere curato da uno specialista. Il veterinario del centro di recupero rapaci feriti di Polesella, in provincia di Rovigo, l'ha curato e ha portato l'animale nell'ambulatorio del centro per un piccolo intervento chirurgico. Il volatile, battezzato salvo in onore del vicebrigadiere salvo d'acquisto, verrà rimesso in libertà nelle prossime settimane. Che bravi carabinieri, anche di questo si occupano. Andiamo in pubblicità, pochi minuti, due minuti, e poi torniamo con altre province da cui ci collegheremo con i nostri inviati. Sono stati celebrati questa mattina i funerali di Matteo Cazzola, uno dei due sci alpinisti vicentini che sono stati travolti e uccisi da una valanga in Norvegia, a servizio di Luisa Bertini. Chiesa gremita per l'ultimo saluto a Matteo Cazzola, l'ingegnere vicentino di 35 anni che ha perso la vita a seguito della valanga in Norvegia. Comunità unita nel dolore della famiglia e nella vicinanza, testimoniata dalle parole di Don Claudio Bassotto, ex parroco a Sant'Andrea, dove Matteo aveva svolto l'attività di animatore. Matteo era veramente speciale per tanti, tantissimi. Amato, amabile, amorevole. Matteo era semplicemente un ragazzo, anzi un uomo, naturale, sorridente, amante della vita e della montagna, pieno di belle passioni, bello dentro e fuori, sociale, positivo, genuino, vite, pacato, presente alla famiglia e ai amici, altruista, generoso, affidabile e tanto, tanto altro. Insomma, quando penso a una bella persona, penso a Matteo perché era così e così rimarrà per sempre nei nostri cuori. E' commoventi le parole degli animatori che hanno raccolto i loro pensieri e i loro ricordi in bigliettini, avvolti tra i ramoscelli di un ulivo. Hanno ricordato Matteo come una guida saggia e preziosa, luminoso come un faro, li conduceva a condividere le bellezze della natura come la tenerezza di un'alba in montagna. E proprio la montagna, che lui amava tanto, ha portato via il suo sorriso che qui in quartiere ricordano tutti. Il pensiero è stato rivolto anche a Pietro De Bernardini, lo studente 25enne di Isola Vicentina, la seconda delle vittime travolte dalla valanga, di cui si attende ancora il rientro della Salma in Italia. Luisa Bertini, ovviamente cordoglio, dolore, davvero una mattina triste, davvero triste per la scomparsa di Matteo Cazzola, che era una persona molto conosciuta e molto stimata. Sentiamo alcuni commenti. Io sono un ex collega e di lui ricordo tutto il pensiero che ho fatto durante il funerale, che entrava in ufficio e mi diceva ciao Antonella, tutto bene? Direi che adesso no. Lui, spero. Lui era amabile, come hanno detto lì alla predica, era amabile, amorevole, era splendido. Splendido. Si è portato via un angelo. Gentile con tutti, sempre sorridente, sempre allegro, veramente grande perdita. Il classico fulmine a Celsereno è vissuta proprio come una tragedia. Purtroppo non ho avuto modo di conoscerlo approfonditamente, però riporto anche io le testimonianze che ho sentito. Lei ha fatto da babysitter a Matteo quando? In che anno? Proprio quando aveva quattro mesi, fino ai due anni, tre. Un paio d'anni. Era un bambino dolcissimo. È stata proprio la mia prima esperienza. Adesso io sono maestra e credo anche grazie a questa esperienza con lui, che è stata magnifica. Di vicinanza alla mamma, perché penso che sia una cosa veramente struggente, un dolore veramente incalcolabile. E questi funerali che ha seguito per noi Luisa Bertini. Torniamo ai migranti, perché oggi c'è un'altra prova importante in aula per la maggioranza, il decreto di Cutro. Ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato in Polonia, dove non le ha mandate a dire. Ha detto che il trattato di Dublino è una legge preistorica e che va cambiato. Sentiamo le sue parole. Abbiamo parlato con il Presidente, come ha cortesemente ricordato, anche delle migrazioni. Fenomeno che la Polonia conosce bene, non soltanto per la grande ospitalità che è generosamente offerta a milioni di profughi ucraini. È questo oggetto di ammirazione a parte dell'Italia, ma anche per quello che è avvenuto ai confini con la Biela Russia di introduzioni clandestine di immigrati. Tutto questo richiede, come noi sappiamo bene in Italia, per la grande affluenza in crescita dai paesi africani e non soltanto a quelli africani, ma anche da paesi asiatici, che venga affrontato il problema dell'Unione Europea come problema dell'Unione. Nessuno Stato da solo può affrontare un problema così epocale, ma l'Unione può farlo con un'azione coordinata dell'Unione Europea, appunto ben organizzata. E questo è un tema che richiama la responsabilità dell'Unione e richiama una nuova politica di migrazione e di asilo dentro l'Unione, superando vecchie regole che sono ormai della preistoria. Tutto questo richiede vecchie regole che sono ormai della preistoria, durissima la critica del Presidente Mattarella. L'Europa comunque fa orecchie da mercante da tempo, continua a far finta di voler redistribuire i migranti, che poi invece arrivano soltanto qui in Italia e in gran parte restano in Italia. E parliamo di migranti irregolari, non quelli con le carte in regola che saranno poi impiegati nelle nostre imprese. Siamo andati a sentire su questo i bassanesi. Vediamo cosa hanno detto. Parlano di togliere la protezione speciale per chi arriva in Italia e chiede il permesso di soggiorno. Lei che cosa ne pensa? È giusto irrigidire i protocolli? Eh, da una parte questa parte umana ci starebbe, però tutte queste persone che vengono e che non hanno un'assistenza adeguata è un po' un problema grosso, dico la verità. È troppa roba, c'è troppa roba lì che non va bene, perché i migranti bisogna dargli una regolamentazione, ma non sulle persone, bisogna fare una regolamentazione a monte con gli stati, con i governi. Quindi quello che stanno facendo in Africa va bene. Le cose che accadono qui sono solo politica interna di bassa lega. Cercare di regolarizzare un po' di più, diciamo, penso proprio di sì. Insomma, credo che faccia bene, adesso io non so benissimo come sono queste regole che stanno imponendo, però credo che forse un po' di legislazione in questo senso sia necessaria. No, no, sono assolutamente contraria. Apporre quel tipo di limiti c'è ben altro da fare sulla faccenda dei migranti. Secondo lei che cosa? Intanto assolutamente trovare un modo con l'Europa di fare qualcosa insieme, di destinarli, perché sembra che il terrore sia l'invasione di questa gente che arriva, ma di certo non è così. Ma l'Europa, secondo lei, non le sembra che ogni tanto faccio le chiede mercante? Su questo tema. Sì, purtroppo sì. Io penso proprio di sì, perché dopo vent'anni libero accesso a tutti non si può fare. Ci vuole un regolamento che l'Europa non ci è mai venuta incontro a stabilire certe cose che si può fare. Se lo possiamo permettere va bene anche i migranti, se non ce lo possiamo permettere inutile gare di vino. Ci sono anche gli italiani che hanno bisogno. Allora, ovviamente la questione dei migranti si associa spesso a quella del degrado dello spaccio nelle nostre città. Non sono solo i migranti che contribuiscono a aumentare il degrado delle città, perché ci sono anche gli italiani che fanno la loro parte. Ma in ogni caso, le associazioni che hanno organizzato la manifestazione a Mestre, vi ricorderete riprendiamoci la città, migliaia di persone avevano sfilato per la città, hanno deciso di tenere alta l'attenzione con altri eventi nei quartieri. Sentiamo un'intervista di Ilaria Marchiori. Dopo la manifestazione del 24, crediamo che ora sia importante una restituzione nei territori degli incontri che vadano anche a toccare i vari punti. I membri delle associazioni che lo scorso 24 febbraio hanno organizzato la manifestazione Riprendiamoci la città a Mestre, vogliono tenere alta l'attenzione sulla questione sicurezza e degrado, organizzando vari eventi, questa volta nei quartieri. Il primo sarà il 20 aprile a Marghera. Questo in particolare vuole porre l'attenzione sul fatto che la questione della presenza dell'eroina nella città che ha purtroppo il triste primato dell'overdose e con tutti i problemi conosciuti alla cittadinanza, legati alla presenza di sostanze, di persone che fanno uso di sostanze, cerchi di affrontarle in una maniera che sia diversa, non tanto per dividere gli approcci, quello repressivo da quello sociale, ma quanto perché purtroppo sono anni che vediamo che questa situazione non va a migliorare affrontandola solo dal punto di vista repressivo. Non sarà l'unico incontro sul tema, un altro si svolgerà il 28 aprile, la sicurezza nelle politiche sociali. Si ha una sicurezza verso gli stessi consumatori, quindi dal punto di vista delle condizioni igieniche, sociosanitarie, delle prestazioni sociosanitarie di chi consuma sostanze stupefacenti e dall'altra parte anche una sicurezza data dagli stessi residenti che in questo quartiere, in questa città, vivono la problematica dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Oltre a droga, spaccio e consumo c'è poi l'idea di organizzare un altro evento che coinvolga la comunità bengalese. Uno spazio dove dialogare sui diversi problematiche che ci sono in questa città, soprattutto sulla convivenza in un condominio. Molto spesso succede che le persone non sanno i ruoli che devono avere, cioè verso la sera, di non fare rumori oppure comunque cercare di avere un comportamento adeguato e molto spesso succede che una persona per la problematica della lingua a volte manca la comunicazione. E la movida bassanese e il degrado entrano nell'agenda della sicurezza, se ne è parlato nella seduta del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è tenuta a Bassano del Grappa. Quello bassanese, si sa, è un territorio dalle molte sfaccettature per quanto riguarda la sicurezza, che vive di dinamiche del tutto peculiari, legate proprio alla sua capitale. Bassano è una città che lavora e produce, ma è anche una città che si diverte e come tale rappresenta un faro per una zona molto vasta che copre tre province e che spesso va pure oltre. Bare locali, una movida spesso fracassona e situazioni che dall'ordinario degrado sfociano nella criminalità, sono entrati nell'agenda del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è tenuto in via straordinaria proprio a Bassano. Si è accentrata l'attenzione su alcune problematiche del territorio. prima tra tutte quei siti un po' definiti sensibili, proprio perché la presenza di locali di intrattenimento, bar, poi tutti quei siti dove si concentrano principalmente ragazzi quindi di età adolescenziale che danno luogo spesso a fenomeni anche delittuosi che vanno infrenati e intravedendo misure preventive sul territorio. La gestione della movida e non solo quella fa parte dei protocolli implementati fra questura e forze dell'Ordine. Abbiamo ulteriormente perfezionato la collaborazione appunto con la polizia locale e con le altre forze dell'Ordine per quanto riguarda il controllo di esercizi pubblici in cui magari è stata notata la presenza assidua di pregiudicati in cui sono state magari servite sostanze alcoliche a minorenni e in cui sono avvenuti fatti gravi riguardo di aggressioni, liti o comunque cose che possono mettere a repentaglio l'Ordine e la sicurezza pubblica. E nemmeno l'agricoltura si sottrae ai furti, in questo caso parliamo del secondo colpo, la seconda razzia di piantine di tipo glera messa in atto dopo quella della settimana scorsa a Montebelluna, questa volta è successo a Maser. A pochi giorni dal furto di quasi 2000 piantine di vite tipologia glera dall'azienda agricola a Martignago di Montebelluna, nuovo colpo dei ladri stavolta a Maser. La scorsa notte i movimenti si sono introdotti nel terreno agricolo di un imprenditore in via Caldiriese e come a Montebelluna anche qui hanno asportato circa 1500 piantine di vite sempre tipo glera regolarmente registrate, consistente il danno economico considerando che una barbatella costa circa 3,50 euro, il valore complessivo del furto potrebbe aggirarsi dunque intorno ai 6.000 euro. I carabinieri di Cornuda sono al lavoro per risalire i responsabili. Si moltiplicano i colpi come quelli all'azienda Martignago e a Maser in una stagione poi particolare come questa dove la domanda è tanta rispetto ad un'offerta ridotta e condizionata dalla situazione meteorologica che ha portato quest'anno come l'anno scorso il costo delle piantine a lievitare furti sempre più frequenti e sempre più impattanti sotto l'aspetto economico al punto che molti imprenditori agricoli hanno valutato la possibilità di tutelarsi con un'assicurazione. Quello che possiamo dire è che purtroppo non si riesce nemmeno ad assicurarsi perché so diversi agricoltori che hanno proprio per riuscire a dormire anche sonni tranquilli speravano di poter sfruttare questa arma dell'assicurazione purtroppo però non era prevista e quindi ci troviamo per chi ovviamente mette a dimora un nuovo vigneto con un numero magari importante di barbatelle piantate all'aria aperta magari senza recinzione senza particolari diciamo dissuosori di sicurezza si trova veramente ad avere parecchia angoscia. Ma furti di questo genere comportano ulteriori problematiche. Il vero problema poi mi permette anche quello di dire non le ho più e forse non riusciranno neanche a trovarle perché c'è proprio anche una carenza di barbatelle di materia prima e quindi generalmente si prenotano per tempo quindi veramente il danno è duplice. Le barbatelle che sono tra le protagoniste della rubrica di Lucio Zanato sull'agricoltura una rubrica fortunatissima molto seguita e la notte scorsa due notti fa è stato commesso un grave furto ai danni dell'azienda agricola Villa Rosa tutto l'incasso del Flower Festival organizzato lo scorso weekend a Sant'Andrea di Barbarana è stato rubato scassinando la macchina del titolare. Il ricavato dell'iniziativa sarebbe stato donato all'associazione italiana Leucemie in memoria di Michela Coletto scomparsa tre anni fa proprio a causa di questa malattia si dovrebbero vergognare quelli che hanno compiuto questo gesto e su questo gesto è intervenuto condannandolo ovviamente anche il Presidente Zaia. Vediamo. Ieri ripeto c'è stata veramente un'ondata di affetto che abbiamo ricevuto e c'è stata veramente tanta gente che ha donato con il cuore non solo con il portafoglio ma con il cuore purtroppo poi si è conclusa con la mare in bocca a fine serata il tempo di caricare la casa in macchina salutare due persone mi sono distratta e purtroppo l'incasso è sparito. Pochi attimi e i risultati di una giornata di solidarietà si sono volatilizzati e amareggiata Laura Coletto titolare dell'azienda agricola Villa Rosa Sant'Andrea di Barbarana e sorella di Michela morta tre anni fa per una leucemia. Quel Flower Festival in un trionfo di tulipani era dedicato a lei e alla raccolta fondi per l'AIL. Una donna meravigliosa che ha trasmesso a tutti il senso vero del volontariato e una delle sue particolarità era il sorriso che a noi ogni tanto manca ma quando pensiamo a lei poi ci facciamo forza e ritorna. Un atto deprecabile lo ha definito lo stesso Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia sui social mentre Laura fa appello alle coscienze di chi una coscienza forse non ce l'ha. Chi ha visto chi ha partecipato al fatto chi l'ha compiuto provate a pensare che i soldi raccolti non servono a curare e non ad arricchire le tasche di qualcuno pensate al gesto che avete fatto e se avete un po' di cuore restituite. L'iniziativa di solidarietà torna anche domenica prossima protagonista un fiore che più di tutti rappresenta un legame senza fine. Tulipano sboccia, sfiorisce ma se poi curato i suoi bulbi rifioriscono l'anno successivo e quindi è una vita che continua e quindi è un po' anche forse la vita di Michela che continua e dall'alto ci guarda. Le associazioni di volontariato, le amministrazioni comunali seguono spesso gli indigenti. I dati resi noti dal Comune di Padova fanno comprendere quanto stia aumentando la marginalità. Siamo riusciti ad accogliere 20 persone in più rispetto all'anno scorso essendo partiti prima il 15 novembre e avendo chiuso dopo il 15 marzo l'accoglienza invernale. Non a caso utilizziamo adesso questo termine accoglienza invernale che è diverso da emergenza freddo. Questo perché grazie alla straordinaria collaborazione tra settore servizi sociali, cooperative e associazioni stiamo passando verso un'idea, una proposta di inverno che non sia un'emergenza ma un vero e proprio piano. Grazie alle strutture del Comune e dell'associazionismo questo inverno sono state aiutate 20 persone in più oltre a quelle conosciute dai servizi sociali, numeri in crescita che raccontano di un aumento della marginalità. Abbiamo dato la possibilità a 142 persone di entrare nei dormitori di cui 137 uomini e 7 donne. Di queste persone alcune hanno dormito magari una sola notte o in pochissime non si sono proprio presentate nella struttura assegnata, però sono numeri abbastanza rilevanti, di fatto ne abbiamo incontrate almeno il doppio, quindi di persone che sono arrivate allo sportello, poi 142 effettivamente sono state accolte perché avevano i requisiti richiesti per l'ingresso. Oltre al restauro delle cucine popolari di Via Tommaseo ci sono altri progetti che saranno finanziati dal PNRR. Abbiamo portato a Padova non soltanto i finanziamenti necessari per la ristrutturazione delle cucine economiche popolari ma anche per la ristrutturazione delle docce di casetta Borgomagno qui alle mie spalle e per la ristrutturazione della cosiddetta casa ex Gabelli dove durante il periodo invernale anche in collaborazione con le cooperative, le associazioni e il territorio accogliamo oltre 20 persone e saranno messe a disposizione dei fondi per l'accompagnamento di alcune persone senza dimora in casa. Questa è la sfida più difficile ma è anche la più bella che vogliamo interpretare. Il servizio di Francesco Rattà è già una situazione difficile, immaginate che cosa succederà quando arriveranno in Veneto altre centinaia di migranti per i quali i sindaci e le stesse associazioni dicono che non ci sono strutture per accoglierli. Andiamo altri due minuti in pubblicità e poi torniamo qui in diretta. Un'immagine sconvolgente da uno dei principali campi di sterminio nazista Birkenau imposa sdraiati sui binari il turismo dell'orrore negli scatti social. È davvero incredibile cosa riescono a fare i turisti a posare così sorridenti sul luogo in cui sono state uccise migliaia, decine di migliaia e poi anche milioni di persone durante il nazismo. È davvero incredibile, incredibile. E sempre di turismo parliamo di un turismo normale, non sempre normale perché a Venezia abbiamo visto fare di tutto, ci sono turisti che si lanciano dai palazzi, quelli che vanno a fare scinautico, ci sono quelli che saltano da una riva all'altra. Davvero è diventato un luna park, credono che sia un luna park i turisti e addirittura si è saputo che c'è un contatore dei letti turistici che stanno per superare quelli dei residenti. Sapete che in una farmacia di Venezia c'è un famoso contatore del numero dei residenti che è sceso sotto la soglia dei fatidici 50 mila da qualche tempo, ormai siamo a 48 mila, ma intanto appunto i letti turistici, il numero dei letti turistici aumenta. Vediamo. 49 mila residenti in drammatico calo e 48 mila 500 posti letto turistici in continuo aumento. Manca a pochissimo ad un sorpasso che segnerà uno dei momenti più grotteschi della storia di Venezia. Se dal 2008 la progressiva scomparsa degli abitanti è testimoniata dal contatore di Venezia.com nella farmacia di Campo San Bortolo, a rendere il quadro più completo arriva ora il contatore dei posti letto di hotel, alberghi, bed and breakfast e locazioni turistiche di Occio, l'osservatorio civico sulla casa e la residenza. Si tratta di rendere visibili dei dati ufficiali e pubblici per invitare ad una riflessione, per renderci consapevoli della situazione e soprattutto per provare a dare risposte a delle domande e la principale è come fare a non trasformarci in un centro storico turisticizzato ma a rimanere città. Il nuovo contatore, quello dei posti letto turistici, è ospitato nella libreria usata by Marco Polo di Campo Santa Margherita che come la farmacia di San Bortolo lancia un monito per ora inascoltato sul futuro di questa città. Noi già esponiamo nelle nostre vetrine anche altri manifesti o altro che sono legati a lotte o a rivendicazioni in città quindi quella di Occio ci sembrava assolutamente giusta e doverosa. Quest'estate la calata sotto la soglia dei 50.000 residenti era stata definita dal presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità Renato Brunetta una discesa sotto la soglia di quel che può definire il concetto di città. Ma è un dato che va letto anche alla luce di quest'altro numero, il numero della progressiva turistizzazione di ogni metro quadro di Venezia. In alcuni sestieri come Santa Croce, San Marco ormai le residenze ricettive hanno superato i residenti veri di questa città quindi sono situazioni in alcuni sestieri ormai esplose in altri che stanno a grandi passi arrivando alla stessa situazione in cui appunto i posti letto ricettivi, la ricettività in particolare quella turistica toglie sempre più spazio alle abitazioni per residenti. E l'associazione venezia.com ha sistemato uno striscione su cui è scritto Calle de Venezianizzata perché è una calle dove è rimasta solo una famiglia e per il resto si tratta solo di case in affitto. Calle de Venezianizzata è lo striscione che abbiamo posto ieri in una calle alla manifestazione in Campo Sant'Angelo e è una calle che va dal Campo Sant'Angelo verso la Fenice ed è una calle in cui è rimasta una famiglia veneziana e tutto il resto sono locazioni turistiche. Oramai a Venezia la continua perdita di residenti e il proliferare di strutture ricettive sono arrivati a livelli sconosciuti in qualsiasi città che non fosse esplicitamente nata e cresciuta come turistica. Lo striscione di venezia.com, associazione da sempre vicina ai problemi di spopolamento della città, campeggia provocatoriamente a marcare l'ultimo atto di un processo decennale. È un caso isolato oppure è un fenomeno che si sta iniziando a diffondere per Venezia? Non è un caso isolato perché le locazioni turistiche si stanno mangiando letteralmente intere calli, interi sestieri e quindi stanno diventando veramente un po' troppe. Per definirsi tale una città non è composta solo da strade, piazze e palazzi ma da un tessuto sociale che la caratterizza e le dà vita e senza il quale la mera urbanistica si riduce ad un guscio vuoto senza anima. Se accanto a una calle per così dire devenezianizzata sorge un'altra calle devenezianizzata e poi un campo devenezianizzato come più o meno sta capitando, che città rimane? Rimane una città devenezianizzata, è quello che sta accadendo, è una città come noi l'abbiamo definita un miliardo di volte, Disneyland, poi Machu Picchu, poi Pompei, una città, un parco giochi dove gli abitanti non ci sono e non vivono e quindi non è più una città. ma è un parco giochi. Come triste Venezia cantava Charles Altnavour, vi ricorderete. Allora siamo in chiusura, grazie a tutti davvero per averci seguiti fin qua. Stasera ci ritroviamo con Focus alle 21.15, non perdetevi l'appuntamento, è un talk sempre molto vivace. Grazie a Francesco Ceronna in regia con Alberto Piovesan e con Focus TG. Ci vediamo domani, arrivederci.